Hai un negozio o un'attività commerciale che vorresti promuovere? Ma sei stanco di buttare risorse in volantini o in attività di marketing che non raggiungono i tuoi clienti? Pio Alert è la soluzione che fa al caso tuo. Pio Alert è l'app innovativa che ti permette di creare offerte e volantini personalizzati per i tuoi clienti e per coloro che si trovano vicini al tuo negozio. Tu imposti l'offerta e Pio Alert la mostra solo ai clienti davvero interessati, in un raggio d'azione da te stabilito. Pio Alert ti permette di far parte di un grande centro commerciale virtuale, dove i clienti possono scoprire nuove offerte e promozioni ovunque si trovino. Grazie ad un innovativo sistema tecnologico, con Pio Alert puoi anche creare offerte personalizzate che vengono visualizzate dai clienti all'interno del tuo punto vendita. Pio Alert è molto di più. Ha infatti la possibilità di utilizzare svariate funzioni avanzate, rese semplici nell'uso e indispensabili per il tuo negozio, come la creazione di un e-commerce personalizzato, di programmi fedeltà e la verifica in tempo reale dell'andamento delle tue attività di promozione. Fai fare un salto in avanti alla tua attività. Visita www.poalert.com e inizia a sfruttare da subito le potenzialità di questo servizio innovativo. Pio Alert, lo shopping locale, senza confini.